in questo episodio il vespaio di catena nuova si unisce a noi clemente ruba il salamino da piatto di un bimbo fronteggiamo panini da censura immobilizziamo il traffico stretching per digerire i panini termico ed elettrico si scontrano accordiamo gli strumenti disturbando la quiete di un intero comune penne alla norma incrociamo rarità ci dicono che siamo pazzi clemente mostra preferenze per l'elettrico ciao a tutti amici avanti dei motori oggi vi porteremo in alta quota ragazzi uscita in vespa domenicale il bello di vespa è anche questo abbiamo conosciuto questi splendidi ragazzi a catena nuova stanno venendo con noi ma non vi diciamo dove il vespaio di catena nuova vi saluta lo vedrete tra poco seguiteci allora piccola pausa caffè a bel passo ci stiamo dirigendo verso una meta in alta quota come vi dicevo abbiamo incontrato a catena nuova questi ragazzi che da subito si sono entusiasmati di fare questo giro insieme a noi e ci stanno seguendo stiamo attraversando in questo momento bel passo una città un comune che sorge alle pendici dell'etna molto vicino a catania veramente molto molto bello ecco davide è è è Grazie a tutti. Suono inconfondibile della MDM Marri di Davide. Eccole, abbiamo una 50 Special, questa azzurra 75, che ci sta seguendo alla grande. E' questa PK-50XL. Lì davanti Clemente con gli altri ragazzi. Abbiamo un BMW e un altro VX, nero, lì davanti. X125, sempre anni Ottanta. Rivisitato e personalizzato. Rivisitato. 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 vi mostro parte dell'architettura di Belpasso ecco il BMW di poco fa ed è da qui che davvero comincia la nostra scalata ecco il nostro corso Vi dicevo è proprio questo il bello di Vespa, riesce ad unire le persone e a farli affrontare tutti insieme questo tour, così, improvvisamente, senza nessuna pianificazione. Quest'oggi il nostro tour parte da Enna, si snoda all'interno della Val di Taino, la traversa, fino ad arrivare alle pendici dell'Etna. E con la moto, signori e signori, abbiamo sempre nuovi appassionati che provano a fare il giro con noi a bordo dei loro mezzi a due ruote, ed è sempre un piacere ospitare nuove persone, nuovi appassionati. Ragazzi, non potete sentire il profumo in questo momento, è davvero molto forte. Un profumo intenso, tipico di queste zone. Ragazzi, 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 ragazzi. Ragazzi, 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 rag Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nelle parti sottoposto e ancora manca tantissimo a la vetta. Come vi avevo promesso ci riporteremo in alta quota, quindi state incollati allo schermo ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci salutano da lì davanti. Ragazzi qui non potete sentire i profumi ma davvero davvero un odore intenso, un profumo di fiori. Davvero forte ragazzi, davvero forte. Nonostante le temperature, colori accesi, vegetazione ancora verde. Abbiamo visto al passaggio una 8.50 Spyder. Che spettacolo questo bracciato. Grazie a tutti. 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 attimi indimenticabili dal sapore ormai passato non siamo più abituati a camminare a goderci il viaggio siamo abituati oramai a spostarci da un punto a un punto b senza veder nulla in mezzo magari ci lasciamo pullare dai nostri sedili ergonomici ma il sapore che ci regalano questi mezzi è davvero qualcosa di unico di irripetibile e se per noi questa sfida è ardua figuriamoci per questi coraggiosissimi ciclisti forse qualche problema qui per il nostro amico vediamo cosa è successo che succede? ti ho visto infatti non me ne sono andato ti sono stato vicino per quel motivo no no secondo me gli si soffoca e non me ne sono andato perché l'ho visto in difficoltà capito per questo ho rallentato un po aspetta aspetta non dargli colpa ora vediamo risotto il problema riprendiamo la nostra scalata verso la vetta i ragazzi stanno tornando indietro perché non ci hanno visti arrivare adesso faranno una bella inversione e via tutti su grande lavoro dei nostri meccanici davvero grande preparazione e professionalità bellissimi questi tornanti immersi dentro la lava lava chiaramente ormai asciutta altrimenti ci scioglieremmo alla fine qui E' a metà ora è sceso ne ho ancora un quadro Sì e forse di salita consuma di più Solo per salire sono avuto 6 salsicce e 3 bottine di birra e per scendere la stessa cosa Allora qua stiamo facendo una piccola riparazione al volo e abbiamo trovato un gentilissimo ragazzo Ci sta offrendo persino l'aperitivo, ci sta facendo da ombra con il suo camper E guardate un po' la maglietta Vespa Grazie gentilissimo Prego prego A la mamma Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Con molta calma riprendiamo la coda del gruppo e proseguiamo questo nostro tour. Mercedez SLK, diversi esemplari di diverse epoche. Grazie. Grazie a tutti. Che spettacolo ragazzi, questi tornanti si arrampicano sulle vecchie colate di lava. Segni tangibili attraverso le foreste e la vegetazione che ricopre i bendii. Davvero tracciato, molto zappiato, davvero. Più saliamo e più l'aria è sempre più fresca. Guardate ragazzi, guardate che strada. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rallento per gustarmi il paesaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come potete vedere, tantissimo turismo da queste parti. Quindi una meta sicuramente di grande interesse. Buongiorno. un saluto dal Refugio Sapienza. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Allora qui davanti a noi abbiamo due vespe elettriche La nostra invece è ad acqua Allora qui Allora qui Clemente ha ricaricato il KERS E poi al termine di un tratto in discesa Dietro questa curva Trovo i due manigoldi che cercano di frenarsi a vicenda Tentano di fermare anche me E' ora E' ora Senti tutti i rumori Nessuno me lo fa un video vero? Siete a piedi ragazzi Pure voi siete a piedi Sono risalito in vespa alla bersagliera In sella In sella In sella alla bersagliera E riprendiamo questa discesa Davide mi fa notare che proprio in questa direzione Arriva un po' di cenere dell'etna Allora qui Allora qui Allora qui Grazie a tutti. 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 Sotto di noi è il mare. E finalmente siamo arrivati ad ogni nato. Oh, 300 timometro. E' il mare è il mare. Ed eccoci sul lungomare di ogni nato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.